La cosa che mi piace di più come titolo è quella di essere papà di Valerio, giovane 23enne con sindrome di Down. Quando noi oggi parliamo di terzo settore dobbiamo ben comprendere quale sia e il perché noi siamo impegnati nel terzo settore. Dice all'articolo 1 del decreto legislativo 117, la riforma del terzo settore, lo Stato riconosce il valore originale delle persone, delle organizzazioni impegnate nel sociale per produrre bene comune, coesione sociale, portare avanti attività di interesse generale secondo lo spirito di solidarietà e di sussiderietà.